Arrivederci Don Bosco, Sulmona ti saluta. Il padre e l'amico della gioventù lascia il capoluogo Peligno dopo 24 ore di permanenza. L'urna arrivata ieri mattina nella parrocchia di Cristo Re è stata onorata per tutta la giornata attraverso momenti di festa e di preghiera. Non è stata mai lasciata sola dai fedeli che hanno reso omaggio a un grande uomo, San Giovanni Bosco. Straordinario educatore e indimenticabile parroco, Giovanni Bosco nacque il 16 agosto 1815 in una famiglia contadina poverissima, Becchi Castelnuovo d'Asti, oggi rinominata Castelnuovo Don Bosco. Rimasto orfano di padre a soli due anni, matura la vocazione sacerdotale fin da subito. Nel 1841 Giovanni Prete arriva a Torino e comincia ad esplorare la città per farsi un'idea delle condizioni morali dei giovani. Ne rimane sconvolto. Ragazzi che vagabondano per le strade, disoccupati, sbandati e depressi, pronti a qualsiasi cosa. Rimane inoltre profondamente impressionato dal constatare come tanti di quei ragazzi prendano presto la via delle patrie galere. Capisce che non può rimanere indifferente a tutto ciò e decide di agire per cercare di sanare come può la difficile situazione. Aiuta dunque i ragazzi a cercare lavoro, si prodiga per ottenere condizioni migliori a chi è già occupato e fa scuola e più intelligenti. Nasce così, nella periferia torinese, il primo oratorio. Don Bosco, ricordato come fondatore della congregazione salesiana, si dedica di lì a poco istangabilmente ai giovani e ai ragazzi. «Siete ladri, mi avete rubato il cuore», si legge in uno dei suoi scritti. Don Bosco, che morì nel 1868, venne dichiarato prima beato nel 1929, poi santo nel 1934. Nel 2008 iniziò il suo pellegrinaggio mondiale. Nella giornata di eri è approdato nel capoluogo Peligno, una giornata storica per Sulmona, per la chiesa diocesana e per la famiglia salesiana. Cosa ha lasciato la sua visita nel cuore della nostra gente? Ascoltiamo alcune testimonianze. Alla famiglia salesiana ha lasciato tanta stanchezza, innanzitutto perché i ragazzi sono due settimane che non tornano a casa nemmeno per mangiare. Tanta gioia sicuramente, tanta commozione. Io sono stato diverse volte a Val d'Occo, ho trovato una commozione diversa nel vedere Don Bosco qui a Sulmona. La cittadinanza ho visto che ha risposto molto bene e quindi magari venisse ogni due o tre anni, dicevamo, proprio per rinsaldare questi attimi di fede profonda e soprattutto immediata. Perché vedere, come ha detto anche Sua Eccellenza, poter toccare la santità non è cosa da tutti i giorni. Don Bosco, la sua presenza qui anche nella nostra comunità, nella nostra città, naturalmente ci ha fatto anche capire che la sua presenza è la presenza nello stesso momento di tanti giovani, di tante persone, capito come questo santo è importante nella vita, nei giovani, nelle famiglie, soprattutto il suo sistema educativo. I giovani questi giorni hanno dimostrato quel grande amore, quella vivacità, anche in preparazione a questo avvenimento. e noi certo, visibilmente, possiamo dire che questo amore lo vediamo e lo abbiamo visto nella presenza di tanti giovani, tanti bambini, tanti ragazzi e tante persone. Ma noi come anche sacerdoti vediamo spiritualmente questa presenza, questo amore verso Don Bosco, anche chiamata di Don Bosco, che chiama anche alla vita spirituale più profonda, che noi potevamo sperimentare soprattutto durante le confessioni, durante quegli momenti di preghiera che erano veramente le testimonianze di fede profonda, soprattutto dei giovani.